Siamo con Marianna Sasso, si rinnova la festa di Sant'Anna con la processione per mare delle partorienti. Nella Baia di Carta Romana c'è la chiesetta di Sant'Anna e in questa occasione le donne in stato di gravidanza da sempre per rendere omaggio alla Madonna, Sant'Anna è la protettrice delle partorienti, delle donne in stato di gravidanza. Andavano con le barchette a rendere omaggio alla Santa e da qui dopo la messa c'era una sorta di picnic sul mare, le barche venivano addobbate con frasche, con dei palloncini e veniva terminata con il melone, con la parmigiana di melenzane e quindi quello che è stata una piccola tradizione religiosa si è trasformata in uno dei più grandi eventi turistici della regione Campania. Cosa chiederai alla protettrice delle partorienti? Ovviamente che vada tutto bene e auguro ovviamente di provare questa emozione a tutte le mamme che ci stanno provando. È un dovere nei confronti della Santa che ci accompagna nel periodo della gravidanza. Oggi il viscovo celebra per tutte le mamme, ieri ha celebrato per le nonne, tutte le nonne del mondo intero, anche le mamme del mondo intero. Così oggi preghiamo anche per tutte le mamme, anche quelle che non hanno avuto ancora, così avranno anche loro. Io ho sempre visto questa chiesetta di Sant'Anna come il santuario della vita, quindi in un tempo in cui purtroppo si diffonde sempre di più una cultura della morte. E allora questo luogo, questo piccolo eremo sul mare, a me piace pensare così, diventa un luogo dove si innalza un inno alla vita. In Europa e in particolare anche in Italia c'è adesso questo fenomeno della denatarità. Quindi festeggiare la vita, donne che portano nel grembo un figlio, è certamente, oltre che una grande gioia, è anche un segno di speranza. Perché sappiamo che se non ci sono nuove generazioni viene a mancare la speranza per il domani. Ed è questa una delle cose per cui vogliamo pregare. Vogliamo pregare perché siano messe in condizione tale le donne e la famiglia da poter accogliere una vita e così da poter arricchire le nostre comunità dei bambini e di nuove generazioni.